La Sicilia scende in piazza, in tutti i capoluoghi ci saranno manifestazioni per chiedere lavoro, sviluppo e legalità. CGL, Cisle e Will si sono trovati d'accordo nell'indir una giornata di sciopero per sabato 31 ottobre e una mozione di sfiducia al governo Crocetta alle prese con l'ennesimo rimpasto. I dati siciliani parlano di disoccupazione in aumento con 170.000 posti di lavoro persi negli anni della crisi, il PIL in caduta del 17%, con punte del meno 40% nel settore dell'industria e del meno 58% nelle costruzioni. Nessuna prospettiva per i giovani, il territorio spezzato in due per le gravi carenze infrastrutturali, la povertà dilagante. Insomma, poco o nulla da prendere, i sindacati hanno deciso di far sentire la voce dei lavoratori. Intanto sembra disinnescarsi la bomba forestali che sono scesi in piazza all'annuncio del loro licenziamento. I 24.000 operai resteranno al loro posto almeno fino a venerdì della prossima settimana, perché non ci saranno né licenziamenti né sospensioni. Il presidente Crocetta ha dato rassicurazioni in tal senso ai sindacati che, grazie ad una variazione di bilancio, saranno garantiti gli stipendi in attesa degli 88 milioni di euro erogati dal Cipe a favore del settore. Ma la questione forestale pende come una spada di Damocle sul governo.